L'esperienza umana su questo pianeta è essenzialmente nel modo in cui i nostri organi di senso percepiscono qualcosa. Qualsiasi cosa percepiamo, se è piacevole per i nostri sensi, ne facciamo esperienza in un modo. E ciò che percepiamo, se è spiacevole per i nostri sensi, allora è ciò che nella nostra esperienza diventa sporcizia. Quindi, se ciò che ci circonda non è pulito, o in altre parole, se ciò che ci circonda non è piacevole per i nostri sensi, le immagini che creiamo nella nostra mente, le proiezioni che accadono sul nostro meccanismo di esperienza o sulla sede della nostra esperienza, sono spiacevoli. Quando crei spiacevolezza così, entrare in degli stati di esperienza, di beatitudine, o prendere il controllo della sede dell'esperienza affinché tu possa generare consapevolmente la natura della tua esperienza, o possa dettare consapevolmente la natura della tua esperienza, diventerà difficile. Processo spirituale essenzialmente significa solo questo, che ogni cosa che sei accadrà consapevolmente. Cioè, la tua esperienza di vita è determinata da te. Siccome la tua esperienza di vita è determinata da te, che tu sia in pace o disturbato non è determinato dall'atmosfera. Che tu sia felice o infelice non viene determinato dalla natura di ciò che accade intorno a noi. Anche che tu sia infelice o gioioso è determinato essenzialmente da ciò che fai con te stesso dentro di te. Se questo deve accadere, è importante che i nostri organi di senso non stiano percependo qualcosa di sgradevole. Quindi creare un'atmosfera pulita è una conseguenza naturale quando le persone diventano spirituali. In questo contesto abbiamo fatto molto lavoro. Nella cultura yogica, la purezza o shoucha è un aspetto importante del proprio sviluppo spirituale. Che gli spazi sia fisiologici, che circostanti, siano in uno stato di shoucha è molto importante perché la nostra pulizia non è solo all'interno del corpo. Ogni cosa che percepiamo attraverso gli organi di senso può creare sporcizia o benessere dentro di noi. Sulla base di questo, molto è accaduto. noi di Isha abbiamo creato un senso esemplare di pulizia nelle persone intorno a noi. In tutti i 53.000 villaggi del Tamil Nadu abbiamo portato questo senso di pulizia in quello che accade lì. Puoi vedere molto chiaramente che quello che può essere negli altri luoghi, se entri nei luoghi o nei villaggi dove è accaduta una certa quantità di movimento spirituale, c'è un certo senso di pulizia nel modo in cui sono le persone rispetto all'igiene personale e agli spazi pubblici. C'è una differenza. C'è ancora molto da fare, ma ritengo che la lacuna più grande sia l'assenza di un sistema per gestire l'immondizia che viene generata in ogni società esistente. E naturalmente abbiamo il problema della popolazione che si moltiplica. Ma questo può essere gestito solo se ci sono dei movimenti spirituali non religiosi molto forti nel paese, così che la gente capisca che la vita è questione di mantenerti pulito. Quando questa idea entra profondamente in te, voler mantenere l'ambiente circostante pulito è una conseguenza naturale.